Per me è veramente un'emozione incredibile essere su questo palco, soprattutto dopo gli interventi del neosegretario nazionale e del nostro governatore Roberto Maroni. Ed è una grande emozione rappresentare soprattutto i giovani lombardi, ormai lo sto facendo da quattro mesi, è un grandissimo onore ma è anche un grandissimo onere. Chi sono i giovani padani, soprattutto chi sono i giovani lombardi? I giovani lombardi sono dei ragazzi per bene, ragazzi che non hanno nulla a che vedere con i ragazzi tra virgolette di centri sociali, che sappiamo benissimo, che spaccano vetrine, manifestano lanciando petardi contro di noi, contro le forze dell'ordine. Noi siamo diversi e lo dimostriamo ogni volta non lasciando nemmeno una cartaccia durante i nostri cortei, durante le nostre manifestazioni. Rinunciamo a tanto perché rinunciamo al nostro tempo libero, rinunciamo agli affetti familiari, ma lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare perché è scritto qua dietro, dobbiamo riprenderci il nostro futuro, perché il nostro futuro ce lo stanno portando via, ce lo sta portando via il governo, ce lo sta portando via Bruxelles e purtroppo io non lo vedo bene, soprattutto per noi ma anche per le nuove generazioni che verranno, che saranno sicuramente in una situazione peggiore di quella che al momento c'è. E lo dobbiamo fare anche per tutti coloro che hanno lottato al nostro fianco ma che purtroppo per un destino infame se ne sono andati via troppo presto. E mi riferisco alla Cola di Sondrio, mi riferisco all'Uriele di Como e mi riferisco anche per ultimo al Sergio di Bergamo. Noi ragazzi vi sentiamo anche se non siete più qua fisicamente perché ci date una forza incredibile per andare avanti e per portare avanti le nostre battaglie. E in termini di ricordi è giusto e doveroso ricordare anche un uomo libero, è già stato ricordato più volte in interventi precedenti, però ci tengo a ricordarlo perché solo due mesi fa durante un incontro a Varese Gilberto Neto, a noi ragazzi, a noi giovani padani, ha chiesto espressamente di portare avanti la battaglia per la libertà della nostra terra. E noi, caro Gilberto, perché lo so che ci stai sentendo insieme al professor Miglio, stai tranquillo che lotteremo fino in fondo e la porteremo a casa. I giovani padani non devono essere considerati dei ragazzini, non devono essere considerati delle truppe cammellate da sfruttare sul territorio, magari per qualche giochino congressuale oppure per mettersi in mostra per qualche politico, assolutamente no, perché sono semplicemente un gruppo di amici che hanno un ideale comune, ovvero la libertà della nostra terra. E questo deve essere chiaro a tutti, come deve essere chiaro a tutti i giovani padani che non si entra nell'MGP e non si entra nella Lega per andare a lavorare in regione o per puntare un CDA o per puntare una candidatura, perché questi non sono i giovani padani. Per queste persone c'è spazio in altri partiti, non nella Lega Nord e non nel movimento dei giovani padani. E con questo non voglio dire che un giovane padano non possa fare carriera all'interno del movimento, perché per fortuna mi sventiscono comunque i fatti. Ha parlato prima Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord, è stato coordinatore provinciale dei giovani padani di Milano. Paolo Grimoldi, segretario nazionale della Lega Lombarda, è stato fondatore dei giovani padani, a cui dobbiamo tutto come movimento. Poi ci sono i consiglieri regionali, Iaricolla, Fabrizio Cecchetti, Massimiliano Romeo, il sindaco di Albuzzano Marco Tombola, tantissimi ragazzi hanno fatto carriera dal punto di vista istituzionale all'interno della Lega, ma semplicemente perché i giovani padani sono una scuola di vita, una scuola politica, da cui invito tutti i giovani, anche che al momento, gli under 30 che non partecipano all'attività del movimento giovani padani, a partecipare, perché è un'esperienza veramente che mi porterò nel cuore per sempre. Le battaglie che stiamo portando avanti, le battaglie che stiamo portando avanti sono tantissime, siamo tornati finalmente a volantinare nelle scuole, a volantinare nelle università, a fare gazebate nazionali, ne abbiamo fatta una recentemente ad ottobre, abbiamo anche fatto delle battaglie in sostegno, che ci tengo a ricordare delle camice verdi, che finalmente dopo 20 anni sono libere, perché è stato assurdo che per 20 anni lo Stato italiano abbia speso milioni di euro, cercando addirittura di condannarli all'ergassolo, che è follia, è follia, e noi siamo con le camice verdi, e per fortuna, anzi, finalmente siete liberi e noi, se avete bisogno di qualsiasi cosa, ci saremo anche in questo. Qual è la battaglia cardine dei giovani padani in questo momento? Sono anzi contentissimo di aver sentito adesso le parole di Roberto Maroni riguardo al referendum sull'autonomia della Lombardia, perché vedete, non è facile in questo momento che si avvicinano tanti ragazzi, parlaghi di indipendenza della Padania, parlaghi di indipendenza della Lombardia, però noi siamo nati per quello e moriremo per questo. Quindi è complesso spiegarle a un giovane cos'è la Padania, perché dovremmo avere una Lombardia indipendente e perché ci rubano 54 miliardi di euro all'anno. Il referendum è uno strumento che noi sfrutteremo in questo senso, lo sfrutteremo perché è doveroso innanzitutto farlo, e Maroni l'ha detto precedentemente, lo convocherà, e questo è ottimo. Però come noi nel 2012, dal palco del precedente congresso nazionale, chiedemmo all'allora Presidente Formigoni di fare questo referendum, e poi ovviamente è stato fatto da Maroni, perché è la Lega che porta avanti queste battaglie, perché se non ci fossimo noi saremmo punto a capo, oggi vogliamo lanciare un appello a Roberto Maroni. Presidente, lo convochi il 29 maggio, il referendum per l'autonomia della Lombardia, che è il giorno della festa della Lombardia, il ricordo della battaglia di Legnano, quando la Lega Lombarda sconfisse il Barbarossa, che è una data per noi storica, l'anno scorso abbiamo iniziato a fare la festa della Lombardia sotto il Pirellone, era un venerdì a pranzo, quindi c'erano 250-300 persone, ma quest'anno vogliamo essere in 1000, in 1500, e sul resto però ci pensiamo noi, insieme alla Secretaria Nazionale, con comitati referendari, coinvolgendo associazioni del territorio, associazioni di categoria, e tutti coloro che vorranno partecipare a questa iniziativa. Semplicemente perché noi non dobbiamo andare a convincere i nostri, non dobbiamo andare nelle sezioni della Lega a dire votate il referendum, perché lo si dà per scontato, noi dobbiamo andare fuori a convincere i 10 milioni di Lombardi, che quella è l'unica soluzione per la nostra terra. Quindi su questo noi metteremo tutto il possibile, al costo di non dormire tutti i giorni da qua al giorno del referendum. E permettetemi di chiudere con una considerazione da militante, perché prima di tutto, prima di essere giovani padani, noi siamo sostenitori, siamo militanti della Lega, e fa male comunque vedere sempre delle presenze massicce ai congressi cittadini, ai congressi provinciali, ai congressi nazionali, sotto candidature, magari perché qualcuno vuole arrivare al posticino. Questo a noi non fa male, fa male la Lega, fa male i giovani padani, e non va bene, non va bene perché poi ci sono i soliti quattro pirla sotto i gazebo, perché io purtroppo ho sentito anche dire da qualcuno che si professa leghista, però poi mi sputtano Rihanna Fallaci, che i gazebo sono inutili, ma cosa stiamo dicendo? Noi siamo la Lega Nord, ricordiamocelo questo. E quindi questo volevo dire, perché se uno vuole fare le collezioni delle tessere, ha capito male, perché le collezioni si fanno dei francobolli, si fanno delle monete, non si fanno sicuramente delle tessere della Lega Nord, perché ricordiamocelo, e questo dobbiamo assolutamente ricordarcelo, che essere leghista è uno stile di vita, è una questione di opportunità, non è una questione di opportunismo. Io faccio un in bocca al lupo di cuore al segretario nazionale Paolo Grimoldi, che avrà sicuramente tutto il nostro sostegno, come lo aveva prima, lo avrà da qua in avanti, e grazie di cuore, sosteneteci, andiamo avanti perché il nostro obiettivo, l'indipendenza della nostra terra, della Lombardia e della Padana, ce lo portiamo a casa. Grazie. Grazie.